Porto quotidianamente nel cuore con dolore la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele, dovuta alle ostilità in corso. Le migliaia di morti, di feriti, disfolati, le immani distruzioni causano dolore, e questo con conseguenze tremende sui piccoli e gli indefessi. Che vedono compromesso il loro futuro. Mi domando, davvero si pensa di costruire un mondo migliore in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta, per favore, diciamo tutti noi, basta, per favore. Fermatevi, incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessato il fuoco, a Gaza e a tutta la Regione, affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano con ansia, e la popolazione civile possa avere accesso sicuro ai dovuti e urgenti atti umanitari. E per favore non dimentichiamo la martoriata ucraina, dove ogni giorno muoiono tanti. C'è tanto dolore, no? Grazie. 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 Grazie.